Doaldo, una sua decisione personale. Cosa vedo qua? Mensa? Mensa, O-S-F, Mensa. Eccola qua, l'entrata. Sì, Mensa, O-S-F. È una mia idea. Voglio passare il Natale in mezzo ai poveri. Sì, per me il Natale è un giorno come un altro. Sono qua in piazza Tricolore. Sono arrivato stasera a mangiare, ho mangiato un buon minestrone, il primo al secondo, ho fatto conoscenza col frate e mi ha detto se voglio venire a Natale, fanno il pranzo con i ravioli. Io ho accettato la Mensa dei poveri. Piuttosto di assumere certi significati, come in certe famiglie che ho sentito da alcuni dei miei amici, marito e moglie distaccati, ognuno per i fatti suoi, vivono in casa da soli. Oggi altre notizie di parenti, che la moglie va per i fatti suoi, i figli per i fatti suoi. Io sono rimasto da solo nella mia vita, da solo, da solo. Però la famiglia era stretta in me, anche se c'erano dei sensi per criticare, da dire qualcosa, però ogni anno c'era l'incontro di tutti, padre, madre, nonni, fratelli e parenti. Purtroppo adesso non ho più nessuno, perché alcuni miei parenti sono stati avvoltoi nei soldi. Vivo la mia vita da povero, sono contento nell'umiltà. Piuttosto di vedere al giorno d'oggi, marito sta in casa da solo, la moglie va dai parenti, passare Natale. Sarebbe da parte mia una maggiore umiliazione, una maggiore umiliazione di sentirmi mortificato. Invece, così no, per me l'umanità ha una grande anima. Tutti vivono assieme quel giorno di Natale. Uno non può stare da solo, per quello che ho scelto di vivere un pranzo con la mensa dei poveri. Anche se sono stato invitato, sinceramente, da quattro miei amici a mangiare il pranzo di Natale ricchissimo, però ho voluto dare la mia scelta e dire che mi trovo bene così nella mensa dei poveri. Perché mi piace il troppo nelle tavole, mi stanca a vedere tutti quei piatti lì ricchi, favolosi, buoni, invece a contentarsi di poche cose, ma buone in un senso di umiltà. E' la cosa più bella che ci possa essere. Oggi e adesso sono in piazza Tricolore, vado a piedi in piazza Duomo, Aldo, il viandante, se non vado a Ferriere, mercoledì sono qua, se non vado a Ferriere.